Allora, ho iniziato. Lezione di storia dedicata alla storia delle idee, dicevo già ieri. In modo particolare oggi faremo una lezione di storia economica, analizzando dentro dell'illuminismo la nascita dell'economia politica, della scienza economica politica, vedendo di fatto due autori, François Quesnay, e poi vedendo Adam Smith, che è sicuramente uno dei più importanti economisti della storia, probabilmente il fondatore, con François Quesnay, dell'economia politica classica, ma Smith e poi Riccardo sono i due economisti classici, cioè i fondatori dell'economia moderna, della teoria economica moderna. L'illuminismo, dicevo la scorsa lezione, è anche un movimento di grande circolazione di idee, si producono idee, idee e si fanno circolare attraverso saggi, articoli, libri, la veicolazione delle idee che esce anche ovviamente dalle accademie, c'è dunque una diffusione più pubblica dell'idea. La stessa enciclopedia di Leroy da Lamberta ha quest'idea fortissima di far circolare il sapere, la conoscenza. In questa circolazione dell'idea, che coinvolge tutti gli ambiti del sapere, o molti molti ambiti del sapere, vi è anche una nuova circolazione delle idee in ambito economico. Dunque l'illuminismo produce teorie economiche nuove e le due teorie economiche nuove che vediamo oggi sono la fisiocrazia, la fisiocrazia di Quesnay e poi la teoria liberista, il liberismo di Adam Smith. La fisiocrazia e il liberismo sono strettamente connesse, la fisiocrazia anticipa il liberismo di Adam Smith. E dunque presenterò due teorie economiche in netto contrasto, in netta contrapposizione con la teoria economica di Colbert, in netto contrasto con il mercantilismo protezionista di Colbert, il ministro delle finanze, ben detto, della Francia assolutista di Luigi XIV. Andiamo con ordine. François Quesnay è un teorico economico strettamente legato ancora al mondo agricolo. Il settore primario nell'Europa del Settecento è il settore economico che sta alla base, lo sviluppo della crescita economica. L'economia si fonda nel Settecento in quasi tutta Europa, prevalentemente in tutta Europa. Poi ci sono paesi in cui sta crescendo sempre di più la manifattura, sta sempre di più crescendo anche la manifattura industriale, però è il settore primario, l'agricoltura, alla base dello sviluppo economico, del sostentamento popolaziole e dunque anche della crescita demografica di cui abbiamo parlato le scorse lezioni. Va bene? La fisiocrazia dunque è quella teoria economica che parte dallo studio della natura, della terra, c'è la parola fisiocrazia, natura, physis. E la fisiocrazia è quella teoria che vuole sviluppare una prospettiva di crescita economica dominando la terra. Il progresso economico, la crescita economica si ha se noi dominiamo la terra. Come traduciamo la loro domenica? Se noi facciamo rendere la terra, usiamo anche un'altra parola, se la sfruttiamo nel migliore dei modi possibili. Dunque, dentro François Chesnè, c'è già l'idea di sfruttare la terra, che è una risorsa naturale per produrre di più. Sin dalla notte dei tempi si cerca di produrre di più, di aumentare la produttività. Hai con la rotazione triennale l'idea di far rendere maggiormente la terra. Però vedete qua, c'è l'idea di utilizzare una scienza economica, politica, politica economica, per analizzare le modalità, le possibilità di far rendere di più la terra. Perché più la terra è sfruttata, per chi? Per l'uomo. L'illuminismo è antropocentrico, è chiaro. L'illuminismo mette al centro comunque l'uomo. E per un lungo periodo è ancora l'uomo inteso come maschio. Però la caduta positiva dell'illuminismo in campo di diritti progresso sarà poi anche per le donne. E come vi ripeto, sempre ragazzi, però, che si è dovuto conquistare, perché non si è regalato nulla, è antropocentrico. Dunque, i temi oggi ecologisti fondamentali per la salvezza e salute del pianeta, che mettono al centro l'uomo nel mondo, o meglio, mettono al centro la natura, di cui sopporta anche l'uomo, sono qua non presenti. Parliamo della natura che va sfruttata, dominata, per aumentare la produttività in questo caso agricolo e dunque il benessere dell'uomo, degli uomini, della popolazione. E qual è il modo per aumentare la produttività? Per avere un sovrappiù, perché più c'è abbondanza, più c'è un sovrappiù di ricchezza, più ovviamente si riesce ad alimentare la popolazione, a far uscire i contadini dall'indigenza, dalla miseria, più le proprietà terriere producono, più a pioggia ci sarà un benessere, pensa a Fano Focosne, perché più aumenta la produttività, dal bracciante, al contenuto piccolo proprietario, al mezzadro, al proprietario stesso, ci sarà di più da dividere. Se la torta è più grande, ragazze, se la torta è più grande, se nel fienile c'è più fieno, è chiaro? Pensa che alla base della crescita economica vi debba essere la sovrapproduzione, cioè una produzione più abbondante della terra, è chiaro? Ma come fare tutto ciò? Per aumentare la produttività terriera è innanzitutto indispensabile un programma, ecco qua è centrale l'economia politica, di riforme economiche che permettano di sfruttare maggiormente la terra e di farla rendere di più. Dunque bisogna eliminare, e qui c'è la politica, gli ostacoli che impediscano la produttività, gli ostacoli che impediscano una maggior estrazione di sovrapproduzione, di sovrappiù, ci deve essere un'abbondanza che va sdoganata, che va liberata. Bisogna mettere la terra nelle condizioni di produrre di più. E quali sono alcune di queste riforme necessarie? Ma innanzitutto bisogna liberalizzare i commerci. Più i commerci sono liberi e dunque meno ci sono dazi doganali, ad esempio, ostacoli del commercio, più i produttori saranno stimolati a produrre di più perché i mercati su cui vendere, in cui vendere, sono più larghi. Dunque più è facile commerciare, più è facile allocare, distribuire il prodotto perché non ho tanti dazi, vincoli, più io sarò stimolato ad aumentare la produttività. diminuire il più possibile la tassazione nel ciclo della produzione perché se io pago meno tasse al re e mi rimane più denaro, più guadagno, io quel denaro, quel guadagno, poi ci arriviamo a fare 6 vite, poi ci andiamo a fare 6 vite, poi ci andiamo a fare meglio nei termini, chi ne parla di guadagno di fatto, più il guadagno del mio commercio mi rimane in mano, più io questo guadagno lo utilizzerò per brava, per investire di più, per produrre di più. Poi se questo avviene o meno, non lo so, sono temi di strettissima attualità, di strettissima attualità, poi ci arriveremo nell'ultima parte a parlare di questo. Dunque, meno dati doganali, più libero commercio, ridurre la tassazione per poter dunque investire ad esempio compro un aratro in più, compro un appezzamento di terra in più, decido di plantare altre sementi e dunque allargare la mia produzione settoriale agricola. Poi, riforme tese e qui capite perché va incontro anche ad una ostilità dei poteri più conservatori sia di Francia o poi anche di Inghilterra queste teorie perché bisogna togliere quei privilegi terrieri alla nobiltà e al clero quando lasciano incoltivate e inutilizzate le terre perché nel settecento in gran parte d'Europa ok vi è una forte mastodontica a tratti proprietà poi dipende dove siamo in Inghilterra di meno in Francia un po' di più in Italia ancora di più proprietà nelle mani terriera nelle mani del clero e della nobiltà ma spesso il clero e la nobiltà dipende poi dal singolo vescovo o dal singolo conte duca ma spesso il clero e la nobiltà non sono incentivati e motivati ad aumentare la produzione perché hanno delle posizioni di rendita io ho cento appezzamenti di terra con 50 che coltivano braccianti mezzadri io ho già una ricchezza che mi permette di condurre questa vita questo odore di vita di essere il dominus il signore va bene dunque gli altri 50 incolti 30 20 15 non sono importanti non rientrano nella mia prospettiva di crescita economica dunque la grande proprietà nelle mani del clero vescovi ad esempio va bene o di nobili non è fatta fruttare al meglio non è sfruttata dunque riforma politica se noi con delle leggi andiamo a sottrarre limitare quelle terre nelle mani incolti nelle mani del clero dei nobili se noi rimettiamo in circolo le terre inutilizzate la produttività complessiva del paese dell'area di Torino di Mappalo di Brandizzo di Marsiglia di Lione della Picardia il via dove siamo la produttività complessiva aumenterà dunque con che nasce una scienza economica un'economia politica atta a valorizzare atta a migliorare ottimizzare la produttività bisogna dunque sopprimere i privilegi sopprimere i monopoli sopprimere i dati doganali ridurre le tasse in modo tale che la libertà di commercio la libertà di arricchimento in modo tale che la produttività aumenti queste parole perché non vi stanno riecheggiando sconosciute perché il mondo del capitalismo che sta bussando alle porte perché ragazze il capitalismo dirà Marx ha questa forza di presentarvi sempre come eterno per tanto voi che siete figlie di un ultra capitalismo e figli di un ultra capitalismo pensate che esso sia sempre esistito così non è il capitalismo è un sistema economico foto sul profitto l'accumulo di profitto che a partire dai mercanti nel 400 nel 500 procedendo con la globalizzazione mercantile secondo le grandi scoperte geografiche ma poi arrivando nell'Inghilterra dell'estecento a strutturarsi attorno il tessile all'agricoltura si afferma negli ultimi 350 anni della storia dell'umanità non è che il mondo dei raccoglitori produttori dei nomadi il mondo greco romano asiatico fossero capitalisti il capitalismo è un sistema economico recente nella storia dell'umanità ebbene tra i padri di questo sistema economico fondato sull'accumulo della ricchezza fondato sulla ricerca del profitto fondato sull'aumento della produttività la circolazione delle merci il commercio anche esasperato di oggi tra i padri di esempio François Cuesnè e per quello le cose che dico adesso vi riecheggiano perché oggi molte teorie economiche inglesi americane e la maggior parte che e la maggior parte dell'economia che contretta l'università sanno tendenzialmente di questo stampo liberista e capitalista che ha come padre fondatore Cuesnè è conosciuto Adam Smith è chiaro François Cuesnè la fisiocrazia teoria economica fondata sulla ricerca di aumento della produttività del sfruttamento della terra per produrre quel sovrappiù che a pioggia cadrà nella comunità e dunque permetterà un miglioramento delle condizioni di vita delle persone l'arricchimento anche di chi un po' è fuori non di tutti lo stesso modo si fonderà sullo sfruttamento della terra certo sullo sfruttamento del lavoro ma questi autori parlano poco di lavoro lo farà Smith ma che se non parla del contadino che lavora del salario del contadino non si sta occupando del lavoratore sta dando delle indicazioni per aumentare la produttività chiaro che per aumentare la produttività posso anche decidere di far lavorare le persone 15 ore va bene è chiaro o per aumentare il guadino posso decidere di pagare pochissimo un lavoratore ma questo tema non è affrontato da Chesnè Chesnetti dice anticolbertismo meno dati doganali più libero commercio va bene meno meno potere economico in mano alla chiesa ai re ai nobili dunque anche allo stato in Francia più possibilità di crescita economica di produttività e dunque miglioramento delle condizioni economiche complessive che non vuol dire di tutte vuol dire complessivamente si assistono in tre condizioni fisio grazia va bene secondo autore ed è un salto teorico importante grande che vediamo questa mattina secondo autore compiamo questo salto teorico molto importante notevole però è in prosecuzione di Chesnè cammina lungo la strada di Chesnè secondo autore Adam Smith Adam Smith è un economista ma è anche un letterato è un filosofo scozzese ed è autore di questo capolavoro del pensiero appunto economico che si intitola saggio sulla ricerca della ricchezza delle nazioni la ricchezza delle nazioni il suo capolavoro di economia questo testo con direi il capitale di Marx questi due testi costruiscono i due capolavori dell'economia del pensiero economico dell'economia politica delle origini la teoria economica classica ha come caposaldo Adam Smith la ricchezza delle nazioni la teoria economica critica la critica dell'economia politica ha come caposaldo ovviamente il capitale das capita di Karl Marx è chiaro? dunque prima l'economia classica avrà questo testo fondamentale saggio sulla ricerca la ricchezza delle nazioni di Adam Smith e poi la teoria economica critica dell'ottocento giungerà attraverso Marx ad avere un grande testo di riferimento di analisi critiche del capitalismo che sarà appunto il capitale partiamo da Smith vi dico due parole sulla vita perché ci sono già nella sua vita alcuni elementi che vi faranno meglio capire la sua teoria economica vi ho detto ho scritto la lavagna nasce il 1723 nasce un anno prima dunque di Emanuel Kant ma muore per me è canso un po' il punto di difendetivo cronologico e mi muore nel 1790 ok Adam Smith muore nasce quando suo papà di fatto muore lui non vede suo padre verrà crescere dalla madre attraverso dei risparmi attraverso possibilità economiche di parenti studia studierà e già a 14 anni si scrive all'università all'università a 14 anni vuol dire di fatto un liceo un istituto scuola superiore e mostra già in questa scuola tutte le sue capacità il suo ingegno le sue capacità appunto intellettive eccetera eccetera e in questa scuola che frequenta il giovane Adam Smith ce lo dirà dopo in alcuni saggi che scriverà segue dei corsi in cui gli insegnanti sono pagati direttamente agli studenti cioè la scuola è a pagamento all'epoca e tutta la scuola pubblica è figlia della rivoluzione francese tu vai a scuola o anche l'università a prezzo calmirato o anche a prezzo zero in Norvegia oggi l'università costa ancora zero non stai gratuita per tutti in Norvegia oggi Italia Francia Germania non se lo possono permettere per PIL la Norvegia è l'unico paese europeo che non ha debito pubblico ha un avanzo però sono 4 milioni di abitanti e hanno il petrolio aperto e chiuso parentesi è chiaro questo va tenuto conto dunque l'università è pagamento oggi era pagamento all'epoca poi c'è la possibilità di andare in una città dove interviene lo Stato ed è qua il giovane che sto giocando di critica poi a Smith lo può interviene lo Stato ci può essere possiede andare all'università anche per chi i soldi non li ha ma Smith potrebbe dire se ci sono le borse di studio e poi ci arriva dunque Smith torna a noi va all'università paga direttamente i corsi che segue e il pagamento dunque è dato anche dal fatto del guadagno dell'insegnante dal pagamento degli allievi dunque più allievi ha un insegnante più un insegnante guadagna e lui dirà quando diventerà lui professore e beh questo è un modo anche per far sì che un insegnante sia portato a dare il meglio perché più un insegnante dal meglio più avrà dei gli allievi e più guadagnerà abbina il guadagno alla prestazione invece quando si trasferisce ad Oxford sia come studente sia poi come insegnante ma starà poco verrà cacciato poi via vi dirò poi perché nota che gli insegnanti spesso anziani essendo assunti dentro l'università avendo il pagamento dal corona o da grandi eredità lasciate fondi privati gli insegnanti godevano di posizioni di rendita e non erano disponibili nei confronti degli studenti non aggiornavano così tanto i loro corsi ad Oxford gli insegnanti stabilmente assunti dall'università regia inglese o stabilmente pagati da eredità private lasciate all'università di Oxford erano meno incentivati a insegnare a avere un rapporto con gli studenti a spiegare bene perché tanto che spiegassero bene o spiegassero male che fossero disponibili o non disponibili tanto loro avevano comunque il loro posto da universitari docenti garantiti per spiegarvi il personaggio e per spiegarvi dove sto per arrivare dunque esalta il fatto che il singolo animato di quanto animale anche sociale non tra poco dal desiderio di relazionarsi in questo caso con gli studenti fosse poi incentivato a dare il meglio di sé sia per avere il consenso sia per avere poi anche il guadagno va bene continua i suoi studi e scriverà tanti testi tra cui ho segnato una teoria dei sentimenti perché perché il buon Adam Smith è allievo e allievo di Hutchison Hutchison è un filosofo inglese il quale considera l'uomo come un animale estremamente sociale e l'uomo secondo Hutchison tende sempre a relazionarsi per cercare di star bene se ma anche di star bene con se stesso e con gli altri perché più gli altri sono felici più sei felice anche tu dunque questo maestro che ha avuto teorico di una sorta di teoria del sentimento e della simpatia antelitteram ci dice Hutchison è più utile la felicità individuale o collettiva per l'individuo è più utile che siano felici i molti che i meno in modo tale che con la felicità dei molti sono più felice anch'io dunque è un modo di affrontare il tema della felicità diverso dal mondo greco va bene ma io sono felice io perseguo la mia felicità ma io sono maggiormente felice se le persone che sono attorno a me sono felici dunque Hutchison un ottimista ma come Adam Smith parte l'idea che gli uomini nel perseguire la loro felicità tendono a collaborare con gli altri piuttosto che a schiacciare gli altri perché ne hanno un vantaggio comune non perché Socrate una virtù perché giusto perché una prospettiva cristiana no ecco la diversità del mondo inglese scozzese ma perché alla base c'è una convenienza umana non solo di convenienza del portafoglio del conto corrente può anche essere poi quello ma una convenienza umana e dunque da buon allievo di Access elabora questa teoria la teoria dei sentimenti cosa sostiene Smith in questo in questo testo Smith in questo testo sostiene che l'uomo è mosso dal self interest da un interesse personale parla di self interest e non di selfness non sono preso bene cioè di egoismo parla di interesse personale gli uomini seguono un interesse personale ma questo interesse personale è mosso da una morale della simpatia cosa vuol dire gli uomini cercano sempre di avere relazioni con gli altri di trovare l'accordo con gli altri di avere la simpatia degli altri e dunque noi siamo sia egoisti ma abbiamo come contropeso all'egoismo il cercare il consenso degli altri veniamo noi voi venite a scuola mosse da partiamo da Anna Smith si ha ragione lui dal self interest l'otto il nove di italiano spagnolo filosofia è il mio interesse ma al contempo a fianco al self interest c'è questa propensione naturale a non odiare essere odiati vivere nella guerra permanente tutti contro tutti Tomasowski poi farò ma c'è anche la ricerca della simpatia il voler avere il consenso degli altri perché si sta meglio avendo una collaborazione si sta meglio come clima dunque io perseguo il mio interesse ma al contempo voglio la armonia con gli altri non con tutti che non sarà possibile ma almeno con una fetta di miei vicini di altri abitanti e dunque il mio interesse personale che perseguisco e perseguo è controbilanciato dalla morale della simpatia dal cercare consenso rispetto agli altri consenso degli altri e dunque è importante questo bilanciamento perché la morale per Adam Smith è fondamentale se non c'è una morale le stesse leggi sono inutili torno a dire beccaria perché non saranno capite le leggi giuste se non c'è morale e anche in economia dirà poche leggi ma delle leggi che debbono essere percepite come giuste dunque c'è anche una morale in economia e questa morale dovrà fondarsi sulla simpatia e la collaborazione naturale dell'uomo e sul perseguimento dell'interesse personale questa visione di uomo come animale socievole che tende a collaborare con gli altri va bene questa visione di uomo che si prende cura di sé meglio di chiunque altro è meglio che ognuno si prenda a cura di se stesso perché chi può fare i miei interessi meglio di me stesso nessuno dunque questo elemento socievole dunque non cattivo io non entro in classe e sono non faccio nessun nome che siamo nel video Gina ok e io voglio il mio otto ma il mio otto passa per il quattro di Adelaide è chiaro pensateci non c'è questo vi direbbe Smith io voglio perseguire il mio otto la mia certificazione il mio apprendere ma questo non passa per lo schiacciare passa anche eventualmente per il collaborare con gli altri perché se collaborando con gli altri per perseguire il mio interesse c'è un clima migliore è più probabile che io riesca ad arrivare all'otto dunque l'uomo è socievole animato da simpatia da relazioni con gli altri ma al contempo è un uomo che pensa che nessuno meglio di me stesso può prendersi cura dei miei interessi dunque un uomo faber che fa i propri interessi in maniera individuale questo incrocio tra animale socievole buono alla ricerca di simpatia filia comunitaria universale al contempo al contempo questo uomo che self-interest persecutore dei propri interessi produce un individualismo che sorregge la comunità una comunità che sta insieme a partire dalla ricerca dell'interesse privato è molto lontano dal cattoliceso ma siamo in Scozia e siamo nella Scozia protestante perché le idee ragazze ragazzi ho fatto un testone così ancora tutto in quinta non sono a storiche a sociali a contestualizzate questo autore era molto difficile se fosse affermato fosse nato in Spagna in Italia questo autore è tipicamente scozzese inglese comunque perché parte da un'idea figlia del protestantesimo figlia dell'anglicanismo figlia del del calvinismo va bene secondo cui perseguire l'interesse privato può avere una ricaduta a pioggia sulla comunità la comunità è fatta da tanti uomini che perseguendo il loro interesse privato creano un equilibrio comunitario non la giustizia l'uguaglianza ma un equilibrio un'armonia da qui poi la celeberrima teoria che c'è tra poco della mano invisibile in economia ognuno perseguendo il suo interesse crea un equilibrio collettivo un'armonia comunitaria come se ci fosse una mano invisibile che dietro il mercato che dietro i processi economici portasse sempre in equilibrio la domanda e l'offerta l'interesse dei singoli e l'interesse della comunità in questo mi sembra utopista ma ne parliamo eventualmente dopo questo passaggio antropologico l'avete capito la sua teoria economica alla base un'idea antropologica non è quello che mi arriva e dice ognuno si arricchisca dietro quel dire ognuno si arricchisca c'è l'idea che se ognuno persegue il proprio arricchimento personale poiché ogni uomo però tende a collaborare e dimostra simpatia universale verso l'umanità è molto probabile che si ottenga un equilibrio comunitario si ottenga dunque un'armonia si ottenga un sistema economico politico morale complessivamente ricco fertile florido prego e sia egoista che quell'altruista che socievole e collaborativo certamente questo è alla base un po' come mito fondativo del mondo poi anglosassone e americano mito fondativo perché poi c'è tanto altro in realtà da dire sul mondo anglosassone sul mondo poi americano ma un po' quest'idea riecheggia anche se Smith dirà parole di fuoco contro il monopolio è vero che in Inghilterra e in America le leggi antitrust contro i monopoli economici contro i cartelli ci sono però i cartelli dirà poi Adam Smith una vita geniale si vengono a creare anche quando due persone tre proprietari quattro imprenditori si trovano sotto al bar a prendere un caffè ci tiriamo sotto al bar a prendere un caffè parliamo noi quattro e da domani il prezzo noi di cosa vendiamo vendiamo gas domani il prezzo del gas diciamo quattro produttori diversi combinazione quasi uguale perché basta che quattro padroni imprenditori si trovino attorno a un tavolo e possono decidere di fare cartello contro la competizione ma ci arrivo dunque lui è un autore che parte dal perseguimento individuale dell'interesse per dire l'interesse individuale armonizzato con la simpatia universale ci porta una comunità in armonia in armonia non vuol dire giusta di tutti gli uomini giusti liberi non c'è sfruttamento del lavoro della natura non c'è ricco il povero no ma dice una società così aperta all'arricchimento può far sì che qualche volta qualcuno che è povero in questa dinamica di commercio liberalizzato aperto possa diventare ricco possa arricchirsi invece dove ci sono la nobiltà e il clero che detengono monopoli dove c'è lo stato regio che detiene i monopoli della produzione alla Luigi XIV alla Colbert tutti quelli che sono esclusi da quei monopoli da quell'accesso rimarranno rimarranno poveri esclusi è chiaro dunque la competizione il commercio liberalizzato il liberismo sta nascendo qua la competizione tra produttori di grano di riso la competizione tra produttori di arance di mele tra produttori di corsetti di scarpe di mutande di pantaloni la competizione permette l'aumento della produttività permette l'arricchimento personale ma anche della comunità perché se una comunità perseguendo l'arricchimento personale potendo commerciare senza vincoli alcuni uomini accumulano denaro guadagno capitale questo accumulo ricadrà pioggia su chi su chi lavora cadrà pioggia su chi consuma perché ci sarà bisogno di lavoratori e io dunque do del salario in cambio di prendere lavoro e i prezzi poiché c'è competizione tra produttori di riso poiché c'è competizione tra produttori di caffè sarà più basso perché dove c'è un unico uomo un unico soggetto un unico dono un unico imprenditore un unico distributore di caffè il prezzo sarà quello se invece il caffè in Inghilterra arriva attraverso la produzione di distribuzione di 4 5 6 8 grandi gruppi imprenditoriali è probabile che questi gruppi imprenditoriali facendosi la concorrenza riducano il prezzo e voi dite ma abbassano la qualità ma se abbassano la qualità tutta una serie di persone non lo compreranno più oppure ti direbbe Usmit accadrà questo ci saranno alcuni produttori del caffè di una più bassa qualità per chi ha quel reddito produttori di caffè di strumenti di caffè qualità più alta prezzo più alto per altri soggetti che hanno più denaro ecco cosa vuol dire che il mercato trova un equilibrio io butto sul mercato pantaloni di qualità X a 10 euro lo compreranno le persone che vorranno i pantaloni a 10 euro di qualità X io metto sul mercato pantaloni di qualità Z a 100 euro troverò come acquirente quelli che vogliono e che possono permetterselo se quello che butta sul mercato pantaloni di qualità Z a 100 euro non li vende perché in quel momento non ci sono soggetti capaci propensi come reddito a poterli comprare lui non potrà più continuare a metterli a 100 euro perché rimarrà tutto invenduto e dunque la competizione porta ad un equilibrio economico tra domande e offerta tolgo i dazi doganali li riduco al minimo non proteggo i prodotti libero commercio va bene no intervento dello Stato se non ammettere delle regole se tutto questo si realizza si viene a creare un mercato libero in questo mercato libero i prodotti le merci senza che lo Stato intervenga a parteggiare per un imprenditore o per l'altro le merci troveranno un'allocazione troveranno sempre un giusto equilibrio a partire da una regola aurea che si chiama regola della domanda e dell'offerta che i prodotti saranno allocati offerta se c'è una domanda che li sostiene se la domanda è inferiore all'offerta ovviamente se la domanda è inferiore all'offerta i prezzi di quei prodotti di quelle merci scenderanno se invece la domanda è superiore all'offerta i prezzi di quelle merci aumenteranno cosa metti in equilibrio la domanda dell'offerta tutta la questione antropologica in parte di prima direbbe lui cioè il fatto che gli uomini tendono a competere ma essere solidali a perseguire l'interesse all'interno di una comunità in questo ovviamente Ada Smith è in parte ingenuo mi permetto di dire perché immagina un mercato puro in cui tutti muovendosi per l'interesse personale e animati da simpatia reciproca abbiano come fine un bene individuale che si armonizza con il bene collettivo e non tiene conto lui lo capisce che può essere un problema ma lo sottovaluta che la politica interviene spesso ad alterare il corso del mercato infatti lui dice la politica deve essere minima in realtà i soggetti imprenditoriali intervengono i gruppi imprenditoriali capitalistici e chiedono dei vantaggi alla politica e dunque chiedono che la politica li sostenga e se non li sostiene tutto nello stesso modo non lo potrebbe fare in realtà se si chiama corruzione si altera il mercato se io faccio delle leggi che valgono per Coca Cola e non per Pepsi che valgono per Amazon e non per Alibaba va bene che valgono per Starbucks ma non per Illy se io faccio delle leggi ad hoc non lo posso fare perché altererei il corso del mercato ma a volte può capitare che ci siano gli stati nazionali dunque lui è un teorico antelitteran di un aspetto economico che oggi è fortemente criticato e discusso o ancora esaltato di un mercato europeo globale con pochissime regole con non protezione con non dazzi doganali in cui le merci possono girare in base alle capacità produttive distributive però è ovvio ragazzi che è così se tu hai le ferrovie e tu non le hai cambia se tu hai acqua energia elettrica se tu hai corsi di fiù ovviamente la ricchezza delle nazioni da cosa è data? dalle capacità produttive dalle capacità economiche ma anche poi dalle risorse naturali a disposizione è chiaro dunque ci sono tutti una serie di problemi che Ada Smith mette sul tavolo mette in campo che poi andranno però ripresi Ada Smith parla di divisione del lavoro la famosa fabbrica di spilli come si fa ad aumentare la produttività? è questa la modernità ma la modernità porta come se dei problemi che Ada Smith mi ripetono non vede io ho una fabbrica di spilli non posso più far fare uno spillo completamente dal disegnarlo al produrlo e distribuirlo alla singola persona ma ci sarà chi porterà le materie prime chi le semi lavorerà chi farà lo spillo chi lo distribuirà chi si occuperà della contabilità allora se questa è una ditta del caffè voi sarete quelli che portano il caffè voi siete quelli che lo lavorano voi siete quelli che lo distribuiscono voi siete quelli che si occupano della contabilità va bene voi siete quelli che si occupano invece di capire le aree del mercato in cui dunque un'azienda ha al suo interno la divisione del lavoro allora io dico io lavoro in fiat in fca o allo shang cosa sei? sono il carrellista sono la cassiera sono quello che fa le pulizie sono il responsabile del reparto sono l'addetto al marketing sono andate avanti è la divisione del lavoro smith che vive in un mondo ancora legato quasi all'artigianato ma che sta scomparendo è un artigianato in cui l'artigiano fa tutto il prodotto ok prendo il legno lo lavoro nella mia boita in bottega esce la sedia va bene quello è l'artigiano che fa tutto in quel mondo dove prendo il tessuto ed esce escono i pantaloni esce il corsetto comincia a dire il futuro sarà il futuro sarà della divisione del lavoro e dove avverrà il taylorismo tra cent'anni il taylorismo molto bene Simone e una ulteriore accelerazione lungo il sentiero della divisione del lavoro che diventa ultra divisione perché passa la catena di montaggio passa il prodotto la merce messa sulla catena di montaggio e l'operaio che è a fianco la catena di montaggio che fa quel lavoro è diventato una merce collegato ad altre merci per evolvere quella merce ma la merce finisce ad essere quello che è perché tanti altri lavoratori comprati hanno prodotto quella merce perché io sono un padrone questo è il capannone mi compro il capannone prendo il semilavorato prendo le macchine poi rimangono lì ma poi compro anche voi i 15 e vi metto attaccato le macchine a produrre la merce e Adam Smith capisce che la divisione del lavoro è il futuro ma sul fatto che questi salari aumenteranno con l'aumento della produttività è molto ottimista anche Taylor o anche Forla penso così più si produce più il padrone aumenta la produttività guadagnerà e più dunque darà anche salari alti in seguito all'aumento della produttività dunque redistribuirà non in maniera uguale se sarebbe appunto una fabbrica collettiva di stampo appunto socialista ma ridarà piccola parte qualcosa in più i lavoratori e poi la maggior parte della terra lui per investire ulteriormente se sei produttivo altrimenti me li spendo al gioco d'azzardo in alcol allora è un capitalismo quel punto lì che non produce più non mette in circolo o sì lo mette in circolo perché i produttori di alcol e quelli che hanno le ditte del gioco aumentano poi ti stai rovinando il capitale è chiaro dunque il gioco del lavoro ma vi dice altre cose il futuro del capitalismo sale in Inghilterra chiaro perché ha scelto una via poco protezionista e individua lui scrive questo testo prima della luzione americana ed è un sostenitore del no taxation without representation dunque dice ma gli americani nelle colonie devono avere i loro eletti del parlamento inglese e per questo è anche un po' odiato e osteggiato in Inghilterra perché lui non vuole l'indipendenza delle colonie ma dice le colonie devono poter avere dei rappresentanti in parlamento perché loro producono e coltivano e sono dentro il ciclo produttivo dunque non puoi escludere chi economicamente dà un contributo e una volta ottenuta scoperta anche la rivoluzione dirà da smith il futuro poi del capitalismo sarà al di là dell'Atlantico sono gli Stati Uniti d'America che stanno nascendo anche questo vede una cosa importante cosa non vede ho chiuso veramente e non vede lo sfruttamento del lavoro e non vede le crisi cicliche del capitalismo ve lo ridico Adam Smith è un ottimista l'uomo è socievole ed egoista e persegue un interesse privato non egoista self-interest l'uomo è socievole l'uomo che persegue il proprio interesse crea una comunità in armonia e il mercato con pochissime regole lasciato la domanda all'offerta al libero commercio senza protezionismo senza dati doganali troverà un equilibrio tra domanda e offerta cosa non funziona o meglio cosa è problematico poi per me non funziona però come ti hai visto oggi ho esatto Adam Smith e non l'hai mai pensato scherzo è un grande autore un grande autore che c'è tantissime cose importanti cosa però non è presente in Adam Smith in Adam Smith non è presente una teoria critica del capitalismo il capitalismo non è un'economia soltanto sempre in armonia ha dei cicli in cui c'è armonia ha dei cicli in cui la domanda e l'offerta trovano un equilibrio ma poi ha dei picchi in cui la domanda è bassissima e l'offerta è altissima e lui dirà e beh si ritornare in equilibrio sapete cosa accade quando la domanda è bassa e l'offerta è alta che si distruggono le forze produttive fabbriche che chiudono merci invendute e disoccupazione di massa e perché i disoccupati vengano nuovamente a essere rioccupati in ottica di Adam Smith bisognerebbe allargare ancora di più il mercato cioè devono arrivare nuovi capitali che decidono di investire in quel territorio ma se questo non avviene l'Africa non si è sviluppata come Adam Smith direbbe perché c'era troppo protezionismo da parte dei paesi occidentali e dei paesi europei al libero mercato sarebbe entrato con libero mercato libera circolazione di intelligenze di merci di conoscenze anche l'Africa magari però quello che è avvenuto è il contrario perché la politica ha blindato lo potremmo dire Adam Smith incompleto o Adam Smith è sbagliato e ci penserete anche voi di sicuro di sicuro questa armonia di cui parla non è per tutti questa armonia non è permanente non è eterna perché quando c'è una crisi si cregono a creare milioni di disoccupati perché quando c'è una crisi si bruciano forze produttive le merci rimangono invendute primo aspetto dunque il capitalismo è ciclico picchi di crisi a noi siamo ancora dentro la crisi del 2008 quando Lehman Brothers si è fallito dunque il capitalismo non è sempre una curva che cresce ma è una sinusoide cresce decresce ricresce è chiaro che la produttività mondiale sta aumentando sempre ma ciclica e poi ciclica geografica cresce la Cina ma magari decresce l'Italia va bene cresce il Brasile ma nel frattempo magari non cresce dite voi l'Estonia l'Estonia sta crescendo dunque è geografica e poi c'è l'aspetto del lavoro il lavoro diviso è alienato e sfruttato e Adasmid non riflette sul lavoro alienato cosa vuol dire? che tutto il giorno fai sempre quel lavoro lì lo fai per un bassissimo salario lui pensa che i salari aumenteranno però quello non è avvenuto in maniera naturale è avvenuto con le lotte dei lavoratori invece Adasmid immagina che ok il padrone stesso mosso da questo interesse personale ma da una comunità armonia una comunità armonica aumenti alcuni padroni fanno così altri invece per aumentare il profitto aumentano ulteriormente il lavoro è chiaro il lavoro sfruttato sottopagato alienato e l'altro aspetto ma questo quasi nessuno dell'ottocento lo riesce a capire lo sfruttamento della natura questo sfruttamento della natura illimitato non potrà essere invece loro partono l'idea che la natura sempre sosterrà questo aumento della produttà ricerco l'interesse ma se oggi il mio ricercare l'interesse va contro la natura c'è ancora armonia dovrebbe prevalere un'armonia ecologica forse Adasmid potremmo anche immaginare che sarebbe dovuto accadere che un Adasmid oggi direbbe ma queste leggi economiche non scritte di profitto se mi vengono respinte dalla natura non vanno più perseguite perché serve sempre oltre che l'interesse personale anche la simpatia universale ma non solo con l'uomo oggi potremmo immaginarlo con l'animale potremmo immaginarlo con la natura perché se oggi uccido questi animali che non reggono poi il ciclo produttivo forse devo diminuire l'utilizzo di animali l'uccisione di animali il mangiare di animali se oggi io mosso l'interesse personale produco lo sfruttamento della natura che mi fa vivere male la simpatia universale per gli altri per la natura mi dovrebbe dire diminuisco Adasmid l'ottore complesso vedete io non riesco a smettere perché mi piace tantissimo questi temi voi tenetelo lì come padre del liberismo classico non banalizzatemi l'idea della mano invisibile non vuol dire non è metafisica è una sorta di equilibrio economico che si viene a creare ok a partire degli atteggiamenti individuali a partire degli atteggiamenti collettivi a partire della legge domanda e l'offerta è chiaro questo è Adasmid teorico del liberismo classico grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti